Dici non sai rapare che non so farlo bene ma strappo una fattura al giorno quindi cazzo mene noi siamo chiusi in casa non so cosa vedere quante ne ho viste chiamo Netflix si faccio una serie wow e voglio i soldi che fallisce a chi se strade come io sono leggenda ci faranno un film se è paranoia se guardo il TG ho visto più fila al supermarket che ha droppi su prime fa fan culo resti in quarantena c'è una figa al fianco da mattina a sera wow non vedo più nessuno in strada ma chissà se fanno i finti i gangster pure stando a casa e fan culo chi se ne fotte dicono chiusi in casa e dopo sfondano le porte Viva l'Italia dice Conte ma qui ci infettiamo tutti mentre crolla un altro ponte wow